La Confesercenti Vallo di Diano della Presidente Maria Antonietta Aquino intende informare in merito all'avviso per gli aiuti alle imprese volti al sostegno e all'attrazione di investimenti per il rafforzamento della struttura produttiva della Regione Campania. L'avviso intende finanziare progetti di diverse categorie, dagli investimenti produttivi ai progetti di ricerca e sviluppo, passando per i piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei lavoratori. Le domande di partecipazione all'avviso possono riguardare una o più delle categorie di investimento, ma devono comprendere comunque almeno la tipologia di investimenti produttivi. Gli investimenti proposti per ciascun progetto dovranno essere compresi tra un valore minimo di 2 milioni di euro e un valore massimo di 34 milioni di euro, nel rispetto di alcuni massimali di investimento per categoria. Ad esempio per gli investimenti produttivi fino a 18 milioni, per i progetti di ricerca e sviluppo fino a 15 milioni, per i piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei lavoratori fino a 1 milione. Le domande possono essere presentate a partire dal 30 di maggio. Noi di Confesacenti Vallo di Diano, spiega la Presidente Maria Antonietta Quino, offriamo un importante servizio di studio e controllo della fattibilità di richiesta dell'incentivo, della presentazione dell'istanza e dell'assistenza nella rendicontazione finale e monitoraggio della domanda. Noi ci siamo, ha aggiunto la Quino, e siamo accanto alle piccole e medie imprese del territorio. Lo spartello Confesacenti Vallo di Diano, con sede in Via San Sebastiano a Sala Conselina, è raggiungibile anche all'email vallodidiano.it e al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito www.impresalcentro.it